... il loro punto di accesso! Via, avanzare! Lassù, un cerchino! Diavolo! Il muovo, ricarico! Attenzione! Diavolo, un cerchino! Ricarico! Fogli, non c'è un piano a bordo di un'aeronave. Accidenti! Ricarico! Ma attenzione! Galahad, i ribelli offongono una trenuare di setta! Capitele tutti su questa maledetta nave! Ti copro! Mi ha arrivato a sotto! Parlazione! Ricarico! Ti copro io! Dominic, tra le guardie della compagnia è massima testa. I dilettanti potrebbero starare a vista a chiunque. Non avvicinarti a me! Che cosa diavolo è stato? Ha esploso un ordigno sul motore anteriore! Indietro! Tutti quanti! Sì, signora! Tu! Attenzione! Un comandante ribelle è a bordo! È la donna di Whitechapel! Prova a prenderla! Non lasciartela sfuggire! Codice di emergenza! Codice di emergenza! Codice di emergenza! Codice di emergenza! Mi ha arrivato addosso! Mi ha arrivato addosso! Ricarico! Ti copro io! Dannato trecate! Dannato trecate! Dannati ribelli! Percival! Sono riuscita a catturare uno dei ribelli! Bene! Non fartelo scappare! Arriverò a breve! Gravi danni sulla fiancata a dretta! Squadra ed intervento nei testori B-12 e B-13! Le scoppe vicino alla sala da vallo sono partite! L'equipaggio conduca i passeggeri a posta! Percival! Percival! Ho perso l'obiettivo! Continuo la ricerca! Negativo! Vai alle scialuppe! Abbiamo problemi più seri! I ribelli hanno un altro dispositivo a bordo! Diavolo! D'accordo! Sto arrivando! Sto arrivando! Sto arrivando!